ciao a tutti e benvenuti nella mia cucina come state vedendo c'è un bel pesciolone qui questo è il filetto di cernia lo andrò a fare in forno con una panatura sopra che adesso vi mostro guardate magari la parte più più doppia la vado a sfilettare ancora e adesso vediamo che panatura in questo frullatore mettiamo il pan grattato due spicchi di aglio una piccola cipollina quattro pomodori delle olive ovviamente denocciolate che io farò così perché a me contengono il nocciolo lo andrò e allora Grazie. E' un po' di capperi. Un po' di formaggio. E' un filo di olio. E vado a mischiare il tutto. E' un po' di formaggio. E' un po' di formaggio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E adesso con le mani vado a mettere sopra. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Perché ovviamente come avrete capito è già salato di suo tramite i capperi e le olive. E adesso lo vado a mettere in forno a 200 gradi e gli ultimi 5 minuti lo metterò a grill così si formerà quella buonissima crosticina. Ecco il risultato finale. E' buonissimo. Morbidissimo. E se questa vi è piaciuta. Ciao! Ciao! E' un biletto di cernia con la panatura. Saporita! Ciao! Ciao! Grazie a tutti. Grazie.